Anche in questo bellissimo video si dicono le stesse cose di prima. Qui vediamo la rotazione antioraria dell'emisfero nord vista dal polo nord. Qua invece vediamo la rotazione oraria dell'emisfero sud vista dal polo sud, southern hemisphere. Vediamo che nell'emisfero nord qualsiasi oggetto, le masse d'aria ma anche gli aerei tendono sempre a deviare verso la destra rispetto alla loro direzione di moto iniziale, mentre nell'emisfero sud tendono sempre a deviare alla loro sinistra rispetto alla direzione iniziale del moto. Invece di andare in linea retta vanno a sinistra. Vediamo anche qua sotto. Il video spiega anche che l'unico tipo di movimento che non è influenzato dalla rotazione terrestre è quello che avviene lungo l'equatore. Quindi un oggetto che si sposta lungo l'equatore verso est o verso ovest, verso ovest o verso est, non viene disturbato e continua a muoversi lungo l'equatore stesso. Qui vediamo che cosa accade a un oggetto che parte dal polo nord. Potrebbe essere un aereo che parte dal polo nord e è diretto lungo un meridiano, questo, verso l'equatore. Per seguire il moto di quest'aereo prendete una penna, altrimenti si segue male sul video, e mettetela sul monitor in questa direzione, cioè in verticale, dal polo nord verso questo punto rosso dell'equatore. E vedrete che l'aereo segue esattamente questa linea retta. Questo è giusto perché l'aereo che parte dal polo nord non ha una componente di velocità iniziale se non questa di partenza. Quindi l'unica componente di velocità è questa qua. Non ha un'altra componente di velocità iniziale perché, come detto nel video precedente, il polo nord è l'unico punto dell'emisfero nord che non ruota. È l'unico punto che non ha una velocità. È l'unico punto fermo. Quindi adesso prendete una penna e appoggiatela sul monitor in questa direzione. Lasciatela appoggiata lì. Seguiamo il moto di questo aereo e vediamo come appare invece sulla superficie terrestre. Il moto dell'aereo sulla superficie terrestre appare come questo arco di circonferenza. Cioè questa curva. In teoria l'aereo avrebbe dovuto raggiungere questo punto rosso all'equatore e in realtà a causa della rotazione terrestre è, per così dire, rimasto indietro, ha attraversato gli altri meridiani e è finito qua. Dal punto di vista del pilota, lui ha l'impressione che una forza, la forza di Corioli, abbia spostato progressivamente la traiettoria del suo aereo verso destra. È una forza apparente, la forza di Corioli, però i suoi effetti sono reali. Perché l'aereo veramente è stato spostato verso destra quando viene guardato dall'interno del sistema di riferimento rotante. Cioè viene guardato dal pilota dell'aereo che sta camminando, che sta volando radente alla superficie terrestre.